Aperto ai battenti alla mostra d'oltremare la dodicesima edizione di Bebo, il salone della bomboniera. Sono quasi 250 le aziende espositrici in rappresentanza di oltre 900 marchi presenti al salone a fuori grotta. La tendenza e la praticità ma ovviamente il must è un richiamo al tema degli sposi attraverso forme e simboli. Tra le idee vincenti quelle che fanno riferimento agli interior design, all'insegna degli oggetti che valorizzino gli ambienti con tocchi di personalizzazione. Per i materiali ai primi posti si confermano vetro e ceramica, testimoniando la forza dei distretti produttivi italiani. Per gli addobbi ritorna il fascino della Provenza caratterizzato da atmosfere discrete, uno stile semplice, dato da delicate decorazioni e da tonalità che rievocano le campagne, il mare, gli ambienti mediterranei. Ai colori moda, viola e fango e lilla si aggiungono quindi anche le tonalità più temi come il celeste, la polvere e il verde sabbia. Ad accompagnare la bomboniera non possono mancare i confetti che anche qui hanno offerte strabilianti. La fantasia e la singolarità trovano spazio perfino nella presentazione dei confetti originali sacchetti iuta, ma anche portaconfetti classificati a forma di busta da lettera. Madrina della manifestazione quest'anno, la nota conduttrice di Uno Mattina Eleonora Daniele, firma di una linea di bomboniere.